Sì, Milly, ciao! No, no, che sei purta! Devi guardare lei! No, 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 no! Lei si fida molto di... Sto facendo il video! La Lily avrebbe già dato il suo ok, ma non so se la Lily è un'incosciente o lei già, sai, lei già decide. Si fida! La risonata è la pezza scappata! Che viene da me! Vizio, guardatelo! Che sei? Tu sei ingrassato in mezzo, eh? Eh, quello della Zerrancia!